è la partenza mentale con poca determinazione di questo terzo quadro. Giacchetti va sull'opzione blocco di Varniani, si va sul lato opposto, Beelinelli ancora un tiro dalla distanza siderale che però serve così soltanto a rimpolpare un pochino con uno score asfettico personale, Italia sotto di 18 punti, zona, bisogna giocare di squadra, non cercare soluzioni di questo genere perché sono troppo rischiose, le soluzioni la più alta percentuale sono quelle che possono eventualmente consentire di riaprire i discorsi, qui la palla recuperata, bisogna difender forte così, Beelinelli, attenzione non facciamoci ingolosire ora subito, la palla va giocata, così, 6 e 15, Beelinelli tira da 9 metri e la mette, 48-33, l'espressione di Michelini è tutto un programma, siamo sotto e ora tentiamo il tutto, il problema è perché ci eravamo arrivati, doppia cifra per Beelinelli, adesso prendiamo tutto Franco, prendiamo tutto, due triple impossibili, dallo spogliatoio l'ultima, come suol dirsi, 6 e 3 all'ultimo intervallo, dunque 16 alla conclusione, sono 15 punti di nuovo, eravamo precipitati almeno 21, ora un parziale aperto favorevole all'Italia che torna ancora a difendere la zona di 0-6, Roni Turiaf ci aveva fatto male in precedenza, rimanendo nella nostra metà campo e quello era stato il momento davvero più brutto, più devastante della nostra partita, poi questi 8 punti di Beelinelli che ha dato un segnale alla squadra, sembra essersi caricato tutte le responsabilità, qui va molto bene, fino in fondo evita l'intervento di Petrus e di Euron.